Come farai a lavorare? Chi guarderà, Maddy? Non tua madre? Troverò un modo. Sono a fare i miei son, ok? Potresti mangiare. Stai ferendo i miei sentimenti. Non mangerò il tuo cazzo di stufato. Ora ce ne andiamo. Aspetta. Ora mi stai davvero spaventando. Scompari nel cuore della notte. Te ne vai, porti via mia figlia e la lasci in una situazione pericolosa con una persona instabile. Voglio dire, ma stai bene. Questo è molto buffo, non credi? Cosa? Sei tu a non stare bene. Mi hai svegliato nel cuore della notte furioso per dei cazzo di piatti sporchi. Hai fatto un buco nel muro con un pugno. Avevo bevuto troppo, ho esagerato, scusa. Ho superato il limite, mi dispiace. Ho tolto dei vetri dai capelli di Maddy ieri notte. Non volevo farlo così vicino a lei. Non le farei mai del male e tu lo sai. No, non lo so. Dici sul serio. Andiamo. Ok, qual è il tuo piano? Dove hai intenzione di andare? Pago io tutte le bollette. Ti ho lasciato uscire con i miei amici. Ti ho permesso di trasferirti a vivere qui. Tu bevi la mia birra, mangi il mio cibo. Stai qui a mie spese. Io... Io faccio di tutto per te. Se esci di qui, non avrai nessuno. Lo so. So di essere completamente sola e fottuta, Son. Ma non toglierò mai più dei vetri dai capelli di Maddy. Aspetta. Dove stai andando? Ok. Papà! Maddy, tesoro. Papà è qui, ok? Dove stai andando, Alex? Qual è il tuo piano? Ok, perché non rifletti per un secondo? Alex, vuoi guardarmi, per favore? Alex? Alex, ascoltami. Ora torna a me. Tesoro, fa tutto bene. Così ne parliamo con calma, ok? Dove pensi di andare? Ehi, non puoi portarmi via mia figlia. Tesoro, papà è qui, ok? Papà è qui. Alex, dove hai intenzione di andare? Ehi! Alex! 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 Ferma! corella, basso, gaspola, gaspola... Grazie a tutti